Marti, il blocco su cui stai saltando sopra è il blocco che oggi andremo a minare. Ti piace? Bellissimo, vero? Ok, già fatto. Prima ce l'ho. Vabbè, uno. Tanto sai quanti li dobbiamo trovare? Questa è la sfida di chi trova più Chorus Fruit. Questo è il blocco dei Chorus, che sono i frutti del land. Non so se neanche se li conosci tu, però fa niente, te lo regalo. Abbiamo 10 minuti da quando ce lo dice Alexa. E mi raccomando, voi lasciate un mi piace e ditemi sotto nei commenti. Secondo voi, questa volta chi vincerà? Secondo voi la spunterà di nuovo a Martina con i suoi magheggi super strani? Sì. Non lo so. Stavolta fai la brava. Alexa, in post on timer di 10 minuti. Alexa, vado? Alexa, vado? Vado? Ok, tu vai di lì, allora io vado. Dove vado? Vado di qua? Oddio, c'ho ansia. Io c'ho due piccoli. Marci, l'ho trovato, praticamente c'è, sulla terra. Hai già trovato? Il corallo sulla terra l'ho trovato. Ma non è un corallo? Cos'è? Cos'è? Dai, cos'è? È un chorus fruit. Qua c'è una caverna. È un chorus? Ok, ho una caverna. Uh! Ho trovato una caverna. No, aspetta Martina. Allora, io non voglio fare come nell'episodio dell'altra volta, che non avevo mai la caverna. Sì, no, infatti hai ragione. Hai ragione. Io ti ricordo che tutti gli altri minerali non valgono, quindi ragazzi, è proprio per quel motivo che non abbiamo dato... Non so, questo vale 200... Tipo, io adesso ho del ferro nel limitero. Non vale niente, ragazzi. Non vale niente. Ok, del ferro. Eh, perché c'è anche del ferro in questa... Cos'è questa cosa qui? Ok, non c'entra niente. Madonna, Marci, ma ne sto trovando tantissimo. Eh, c'è solo questo, praticamente, considera. È proprio la sfida di chi trova più di questi qua, ok? Io ti dirò, appena arriva due stacchi interi, te lo voglio dire comunque, per darti... Sì, però se trovo il diamante mi arrabbio, eh. Non dovrebbe esserci. No, il diamante normale c'è. Trovato l'oro. Il diamante normale c'è. Eh, sì, sei anche tu nel mineshaft, immagino. No, mi sono bloccata. Non sei nel mineshaft anche te, eh? Mi sono bloccata, Marci. Non riesco a muovermi. Eh, devi tipo spostarti in qualche modo o uscire e rientrare. Non riesco. Ah, devi perdere tempo e uscire e rientrare. Aspetta, mi metto in game mode 3. Ok, a posto. Vabbè, puoi farlo questo, alla fine. Se ti metti in game mode 3 puoi farlo, perché alla fine... Non mi sono citata, non puoi citare, non si può citare niente. Infatti, potresti citare le caverne, però dai, mi fido. Vabbè, mi sono subito rimessa a posto. Ok, qua ci sono altri ciò. Ma quanti ce ne sono, amici? Mamma mia, guarda... Tu quanti ne hai? Curiosità. Ah, sono caduta. Eh, non lo so, boh... Mezzo... Uno stack e mezzo. Quanto? Uno stack e mezzo? Sei già uno stack e mezzo? Sì, perché te no? No, non è vero. No, ancora no, purtroppo. Sono un bot. Io sono un sacco di meno, ragazzi. Aspetta, vediamo quanti ne ho io. Adesso prendo tutti questi... No, vabbè, ma ce ne sono... Ma quanti ce ne sono, Marty? È bellissimo, continuano a scavare questi blocchi. No, vabbè, ma sono stupendi. Ok, forse adesso arrivo a due stacchi, lo sai? Ho fatto... Cioè, non eri uno stack. Eh, ho fatto una stack di almeno 5-6 di fila, che boh, pazzesco. Neanche a dirlo... Neanche a farlo apposta. Vediamo se c'è qualcos'altro che non ho preso. Continuo a buggarmi. Mi mannaggia la miseria. Eh, perché spacchi troppo veloci i blocchi. Questa è proprio una delle varianti dei piccoli che sono troppo veloci. Io scavo con calma. Cioè, considera che scavo un blocco alla volta. Scavo. Vediamo. Mi devo rimettere in Game World 3. Va bene. Eh, cosa devi fare? Se devi per forza farlo, farlo. Eh, sì. No, non mi muovo più. Eh, vinci te. È meglio, no? No. Siccome vinci sempre te... Io comunque sono... Ma cosa? Ho vinto una volta, ho vinto. È barando. Non è vero. No, no. Assolutamente. Non ho barato, cosa dici? Comunque, io sono, per la tua felicità, quasi a tre stack. Ma come? Sono quasi a tre stack. Ma quando le hai fatti tre stack, dai, stai barando. Io sto barando. Io sto facendo il video. Come faccio a barare? Non posso. Anche volendo non posso. Puoi, puoi. No, non posso. Cioè, dovrei fare il video delle hack e tutto, ma non avrebbe senso in questo video. Ah, ragazzi, volete che vi faccio un video delle hack? Però contro Marco, perché Martino ormai lo sa questa cosa. Ma guarda quanto c'è! Mi sono incastrata nell'acqua, va bene. No, vabbè, tu non hai idea di quanto ne sto trovando. Ti dico quanti ne ho esattamente. Sei pronta? No. Sei esattamente pronta? Non ce lo dite no, non sono pronta. Tre stack e tre pezzettini. Quattro pezzettini. Cioè, veramente. Ti sto arando. Tanto lo so già che mi batterai, perché... Eh, non credo, cioè... Dal nulla se ne uscirà. Eh, ma io c'ho dieci stanche. No, 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 no. Guarda quanto oro che c'è qua, che ci sono. Ma guarda, la redson pure, mannaggia. La prossima storia dobbiamo farla col piccone con fortuna, eh. Comunque ve l'avevo promesso. Ah, è vero. Eh, purtroppo con questi qua non si può fare. Cioè, ho provato, ma il piccone con fortuna con questi qua non funziona, purtroppo. Guarda, guarda quanti ne ho! Marti, allora fai una dove praticamente metti solo diamanti, ma che ne spavano tantissimo. Va bene, ci sto, va bene. Per la prossima settimana, lo registriamo in questi giorni, amici. È in più fortuna, quindi c'è proprio pioggia di diamanti. Ah, pioggia di diamanti, va bene, ci sto. A me piacciono queste cose qua. Più diamanti si trovano, amici, meglio è. Meglio è. Oh, quanto ce ne sono. Poi ci sono anche degli altri minerali che ovviamente non ho tolto, ragazzi. Perché alla fine questa è la generazione casuale dei Chorus. Ok. Quanti ne ho? Io sono quasi a cinque stacchi. Cioè, proprio... Come? Con una semplicità incredibile. Eh, ce ne sono tantissimi in giro, Marti. Dovresti solo guardare meglio tu, secondo me, eh. Mi sto guardando bene, però. Sono io quello che dovrebbe avere... Cioè, che hai gli occhiai, non tu. Allora. Oh, credo di averne buttato alcuni nella lava. Eh, vabbè, quello purtroppo capita. Io comunque ho finito la caverna e non so come tornare nel mio mineshaft, considera. Quindi potresti avere un bel vantaggio adesso, eh. Bene, bene. Ok, fammi prendere questi. Questi io con fortuna sarebbero stati bellissimi. 50 ne prende via la volta. Perché, se noti, ne esponono tantissimi. Cioè, proprio tantissimi. Vabbè, sì. È tipo il carbone ma all'ennesima potenza. Esatto. Poi il carbone non ce n'è, peraltro. Perché questo qui ha assorbito proprio il carbone. Oh, mio Dio. È il paradiso. Eh, lo so. Ce ne sono tanti in alcuni punti. Io mi sto un attimino complicando la vita, probabilmente. Ok. Da questa parte sono già andato. No, amici, non ne trovo più. Oh, oh, oh. Quanti ce ne sono? Oh. Bello. 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 Quanti ne ho. Guarda quanti ne ho. È un'insenatura. No, vabbè, ma è enorme, ragazzi. Guardate, non finisce mai. Io penso che questa qui sia una delle sfide con più cose trovate. Poi alla fine. No, no. Seriamente. Che abbiamo mai fatto. Perché comunque, cinque stack di roba... Non me lo ricordo di averla mai fatta, in realtà, eh. Poi non lo so, in realtà. Vediamo un po'. Madonna mia, ma è tantissimo. Cioè, non finisce più. No, sì, sì, anche a me. Sono arrivata in un punto in cui... Boh. Anche a me, anche a me, anche a me, considera. C'è un punto in cui non finiva proprio più. Ok. Qua c'è una veramente tantissimo. Scendiamo. Ho trovato il diamante, non ci credo. Eh, il diamante purtroppo. Mi dispiace per te, ma non si... No, c'è la lava qua. Oddio. Devo tornare su, amici. Devo tornare su in qualche modo. Devo tornare su in qualche modo. Ah, questa parte qui non mi piace. I momenti morti non mi piacciono per niente. I momenti morti non mi piacciono per niente. Ok, sono tornato su. E ho trovato altro Ciorus. Quanto ce n'è di Ciorus? Ok, fatemi andare via da questo posto che lo sto odiando. Oh, ce n'è ancora. No, vabbè, ma è impossibile, ragazzi. È impossibile quanto ce n'è. Io mi giro e ce ne trovo, considera. Eh, sì, uguale. Uguale anch'io. Sto facendo la tua stessa cosa, più o meno. Oh, da questa parte continua, però. Ah, ma allora non è finita da questa parte. Però mi sembra che sia finito questo. Aiuto. Ok. Ah, non riesco di salire, sono incastrata nell'acqua. Sei incastrata nell'acqua? Meglio così. No? Secondo me siamo anche vicini, sai. Non so cos'è. Tu sei nel mineshaft? No, non più. Ah, allora non siamo più vicini. Perfetto. Io sono ancora nel mineshaft. Quanto? Quanto? Sì, 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 sì. Quanto ce n'è? Sì, sì, tutto mio, tutto mio, tutto mio, tutto mio, tutto mio, tutto mio. Mamma mia! Devo assolutamente batt... No! Sono dentro... Eh, questa cosa qui non è bella. Anzi, per niente è bella. Perché sono all'interno delle ragnatele e non si possono rompere le ragnatele. Aiuto! Basta! Ah! Voglio vedere cosa c'è in questa chest, però. Non si può vedere, vero? Ok, non si può vedere. Aiuto. Devo tornare su in qualche modo. Che facciamo così. Tanto sappiamo che da questa parte si può tornare su. No! Ok. Ho messo nella seconda mano il piccone. Ah! Qua ce n'è altro. Va bene, va bene, va bene. È che... Magari, no, ne vedi che ce n'è solo uno. Poi spacchi e dietro ce ne sono cinquant'ordici. Guardate che mi è capitato tre volte che ce n'era solo uno per davvero e mi sono ritrovata abbastanza contrariata con la vita. Contrariata con la vita? Ok. Va bene. Io sono in un momento no, eh. Quanto manca? Eh, mancheranno... Tre, quattro minuti, più o meno. Eh... Manca ancora un po', in realtà. Manca ancora veramente un po'. Solo che sono... Sono contrariato anch'io. Eh... Perché non sto trovando granché. Oh, ho spaccato a caso e l'ho trovato. Come non detto. Va bene, va bene. Guarda, ti permetto... Se vuoi ti permetto di fare un po' di branch mining. Perché vabbè, ci sta ogni tanto di fare branch mining. Ma in realtà non ne ho bisogno per il momento, però... Adesso mi sono un attimo persa nella caverna. Porca miseria. Io non sto trovando niente. Sto trovando redstone. No, ragazzi, dov'è? Dov'è il mio Chorus? Voglio trovare la caverna. Non trovo il Chorus. Ecco qua, c'è qua il C del Chorus. Perfetto. Forse può essere utile fare questa tecnica qua per un attimino. Tanto mancano veramente pochi minuti. Quindi è una tecnica che possiamo utilizzare. No, sono persa. Oh, ma sta acqua quanto mi sta dando sui nervi. Ok, ragazzi, guardate quanto ne troviamo. Tecnica della miseria. Tecnica della miseria. Uuuuh. Quanto ce n'è! Non finisce più. E non finisce più. Ok, redstone. Ottimo la redstone. Altro, altro. Ma no, Marti, sto facendo la tecnica branch mining per il finale e potrebbe essere la svolta. Te lo dico io, eh. Quindi potresti utilizzare. Ah, puoi utilizzarla se vuoi. Ogni tanto si può fare. Adesso prendo i diamanti solo per sport. Ma un altro ne ho trovato. Ma porca miseria. Poi i diamanti? Sì, ma si può. Ragazzi, non è gratificante fare questa cosa, amici? È veramente gratificante, trovo. Puoi fare i video, tipo, soddisfacenti. Sì, questo è satisfying su Minecraft. Ne va sta roba che è bruttissimo da vedere. Ok. Guardate quanti... No, ragazzi, questa è enorme. Questa insegnatura è enorme. Ok, ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ragazzi, devo per forza fare così per trovarne altri. Lava? Lava? Dal nulla? Lava, come lava? Ho trovato della lava dal nulla. Potrebbe essere interessante come cosa. Altro Chorus. Tu quanto Chorus hai, più o meno? Non ne ho idea, Marci. Non voglio neanche guardare. Io ho veduto un po' di sacco. Ti lascerò la sorpresa. No, non volevo la surprise. Volevo sapere realmente quante robe avevi. No, no, non te lo dico. Ok, altro Chorus. Oh, cavolo, mi chiami che sono già passata. Stop, 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 stop. Ragazzi, in diretta. Tutto in diretta oggi. Voglio vedere quanti ne ho da notti Martino. Vado. Vado? Tu quanti ne hai? Io apro. Ah, solo questi hai? Questi ho. Ho vinto io di 20. No. Non ci credo. Ragazzi, di 36 ho vinto io. E io ho tre diamanti. Vabbè, anche so. Tre redstone, otto glowstone, un bacco di roba. Amici, incredibile. Non me lo sarei mai aspettato. Ma Marci si porta a casa la vittoria. Marci, sinceramente, guarda che ho vinto io. Guarda meglio. Dove te li sei citati? No, semplicemente ho preso i tuoi e l'ho messi nel miei. Ah, fa un cuore. Vai a fare un cuore. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Nei commenti, se siete orati fino a questo punto. Hashtag Martina non ingannare. Ciao. Ma non ho ingannato nessuno. Cosa vuoi? Tu, anzi, tu hai ingannato. Stolto. Stolto.